Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ovviamente parliamo della conferenza stampa di ieri, ma parliamo anche di mercato perché l'Atalanta finalmente si è mossa. Prima di iniziare però vi ricordo, iscrivetevi al canale, lasciate un like e dopo aver visto il video un commento. Ora, la conferenza stampa di ieri, parliamoci chiaro e con grande onestà, non ha detto niente. Era abbastanza impensabile che l'Atalanta comunicasse qualcosa di effettivamente forte in conferenza stampa. Era una conferenza che andava fatta per dovere, sono emerse comunque delle cose positive, però chi si aspettava grandi proclami è rimasto deluso. La cosa positiva che è emersa secondo me è che le due persone che sono state incaricate di costruire la squadra hanno fatto capire di essere ambiziose, di voler far bene e di voler davvero dimostrare il loro valore con lucidità, con preparazione e non è una cosa scontata perché tu puoi anche, ovviamente nessuno ti dirà mai spero di non far danni, però un conto è presentarsi in maniera low profile dicendo lavoriamo, un conto invece è far capire che si vuole far bene, che si vuole far lasciare il segno e la cosa mi ha rincuorato parecchio perché ci vuole anche un po' di spavalderia a questo mondo. E la cosa che mi ha colpito di più è che nel silenzio di questa conferenza stampa loro hanno già dimostrato di sapersi muovere, soprattutto d'amico, con il colpo ancora da annunciare, però insomma sembrerebbe addirittura l'arrivo di Cambiaso e quello poi in nottata di Ederson. Cioè vedete come uno fa una conferenza stampa, si presenta, potrebbe lasciare intuire qualcosa, tace, lavora sotto e porta a casa. Io nel video precedente ve l'avevo detto, sono convinto che questi sono i giorni importanti perché si vuole portare in ritiro una squadra quantomeno completa dei nuovi innesti o di un buon numero di nuovi innesti, in modo tale da poter subito iniziare a lavorare. Ma andiamo a spendere due parole su questi nuovi innesti. Parliamo di Cambiaso, giocatore su cui, ripeto, manca la conferma, però ormai è opinione generale che il giocatore sia vicinissimo. Non parliamo come un giocatore preso perché non è ancora il momento, però l'Atalanta è andato a individuare un profilo italiano, giovane, di 22 anni, che gioca sia a destra che a sinistra, bravo nei cross, grande resistenza, ottima velocità. È un profilo che innegabilmente ci va a raccontare che si è scelta la strada di svecchiare un po' la squadra. È un profilo che già ci piaceva, speriamo di portarlo a termine, siamo scaramanti, ci parliamo così, però ragazzi è un colpo che farebbe gola a tanti. Se si porta a casa è un colpo importantissimo. Poi io, come sempre, i Jerry polemica esistono, ho già letto di chi non gli sta bene, di chi... Vabbè, ognuno è libero di dir la sua. Per me, fra quello che si poteva cercare, è probabilmente l'opzione migliore, perché va a bilanciare tutta una serie di fattori. È evidente che a spendere di più ci sono giocatori anche più forti, però se rientriamo in una logica umana vi renderete conto da soli che stiamo parlando comunque di un giocatore interessantissimo e su cui c'era meno male l'interesse di tanti grandi club. L'altro colpo, che invece è già in fase più avanzata, diciamo, rispetto a quello di Kamiasu, Ederson, che è stato annunciato ieri sera da Di Marzio. Altro giocatore che non era novità, seguivamo praticamente l'inizio mercato. Ci si è mossi con grande abilità, anche facendo probabilmente una trade con alcuni giocatori. Andremo poi, quando verrà dichiarata, quando verrà definita, andremo poi a commentarla bene. Però anche lì parliamo di un signor giocatore che ha dimostrato in sei mesi di essere veramente forte, di poter fare la fase difensiva, di poter essere anche un ottimo giocatore da fase offensiva, capace di tenere il ritmo, capace di, anche fisicamente, importante e soprattutto un giocatore di cui caratteristica all'interno di questa squadra, della nostra squadra, al momento non ci sono. Perché abbiamo giocatori sicuramente di resistenza come Deron, ma non con quella, con quell'aspetto lì, un po' alla Davids, un po' alla Gattuso. E quindi per me, per quanto mi riguarda, probabilmente adesso con quella manata comodata sul microfono sarete diventati tutti sordi, per me è un giocatore importante, per me è un giocatore che può essere davvero determinante. e in silenzio, zitto zitto, l'avevo detto nel video precedente, D'Amico sta rifacendo il telaio della squadra. Questi non possono essere colpi, anche se questi due più il riscatto di Demiral parliamo già una cinquantina di milioni di spesi, però si va a rifare il telaio della squadra, si va a ricostruire le basi portanti su cui poi si può andare a mettere il colpo, qualora poi il mercato lo offra, perché non sempre il mercato offre il colpo fattibile, mettiamola così. E io sono estremamente soddisfatto di questo modo di agire. Mille nomi che escono, anche in conferenza stampa D'Amico ha smentito Illich, ha smentito Barak, ha smentito Simeone, però io quelle parole lì le prendo con le pinze, perché non mi fido, io credo che loro abbiano benissimo in mente che cosa vogliono fare, abbiano benissimo in mente che i giocatori vogliono prendere. Per esempio un altro nome che secondo me è sulla loro lista e per me potrebbe benissimo arrivare, Pinamonti, perché è un giocatore che farebbe al caso nostro, un giocatore che deve confermarsi, quindi è ancora una mezza scommessa, quindi un po' in linea con certi profili che fa D'Amico, un giocatore che secondo Di Marzio non vuole andare al Monza, sta aspettando un'offerta dall'Atalanta e dalla Fiorentina, vedremo come va a finire, però secondo me la chiarezza che stanno dimostrando sul campo, sulla selezione dei giocatori, sull'idea che vogliono proporre, è qualcosa di importante. Poi bisogna stare al mister, riuscire a metterli in campo in una maniera efficace, però senza proclami, senza dichiarazioni, direi che quelle informazioni che noi volevamo capire, quale Atalanta ci sarà, che cosa ci dobbiamo aspettare, pian piano lo stiamo capendo, una squadra ringiovanita, una squadra con delle solide basi, è una squadra su cui magari potrebbe esserci anche il colpo, magari sul fine del mercato, quando i prezzi si abbassano. Adesso bisognerà aspettare per, ovviamente le confermo, ma per valutare da amico anche in fase di vendita, perché abbiamo un botto di giocatori da vendere, e lì invece secondo me la cosa sarà un po' più difficoltosa, però se sarà bravo anche in quello, direi che abbiamo fatto un gran gran colpo a sceglierlo come direttore sportivo. Fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!